Un'iniziativa molto importante qui a Fano, insieme al Vice Ministro, insieme a Danas, insieme al Presidente della Regione, insieme al Sindaco di Fano, che vi ha lavorato molto, devo dire, e presenteremo il progetto della nuova Fano Grossetto. Io sono intervenuto ponendo la questione, contraddicendo anche il Presidente della Regione, un giornale locale, la mese anche in evidenza con un titolo anche abbastanza forte, e devo dire che qui il Ministro e il Vice Ministro si sono veramente impegnati, insieme alla Senatrice Fabri, che ha seguito anche lei direttamente la questione, e c'è stata questa risposta affermativa, che vede la realizzazione definitiva entro il 2020, quindi non parliamo di anni biblici, con un primo intervento, con già risorse stanziate per 270 milioni, e la somma complessiva negli anni, che è prevista, è quella di un miliardo di euro. Quindi parliamo di risorse importanti, a quel punto aiutiamo anche una risposta a un'infrastruttura importante, che aiuta anche la nostra economia.